Un'altra cosa che si può fare durante il periodo autunnale o primaverile è moltiplicare le piante per talea. Si raccolgono dei rametti di, in questo caso era salvia, la salvia quella che si usa per cucinare, ma anche del rosmarino, dell'alloro, di quello che si preparano, si tirano via un po' di foglie, si preparano, se ne preparano non uno solo, un po'. Si tagliano le foglie in alto, a metà, di modo che le foglie fotosintetizzano, ma non avendo le radici, fotosintetizzando, devono mantenere gli stomi aperti, cioè quelle cose che permettono all'anidride carbonica di penetrare all'interno della foglia, per far sì che avvenga la fotosintesi, ne lasciamo metà, contiamo almeno tre gemme e prepariamo un po' di materiale per far talee. La pianta che, a differenza della moltiplicazione per seme, la pianta che verrà fuori, che nascerà da queste talee, sarà identica alla pianta da cui siamo partiti. Nel seme invece, quando si ha il fiore, si ha l'unione di un papà e di una mamma, che darà un soggetto, un individuo che è diverso dai due individui di partenza, come per i bambini, cioè un papà e una mamma si fanno i bambini e poi il bambino è una miscela del babbo e della mamma. Ok, si preparano un po' di talee. Quello che avanza lo si usa in questo caso per fare un bell'arrosto. Voilà. Come substrato di tutto questa cosa qua si utilizza una miscela di sabbia e torba. Non si utilizza più né compost né terra di campo perché contengono batteri. Avendo delle ferite aperte, questi batteri potrebbero infettare la nostra talea, quindi si utilizza la torba che neutra e la sabbia che neutra anche lei, in parti uguali. Si miscela il tutto. Vediamo un po' se riusciamo a miscelare bene. Via. Si mette un coccetto per il drenaggio. Ecco, in questo caso conviene utilizzare vasi di terracotta. La terracotta è porosa e trattiene l'umidità. Dobbiamo far sì che la nostra piantina emetta, la nostra piantina, la nostra porzione di pianta emetta le radici prima di seccare. Quindi facciamo un buchetto con la matita. Le mettiamo tutte lungo il bordo. Dopodiché il trucco per far sì che queste continuino a lavorare, a vivere, è quello di mettere un bel sottovaso, così, un vaso trasparente, in questo caso un vaso della marmellata trasparente, e di riempire il tutto di acqua. Cosa succede? Le nostre rametti non hanno radici. Parte un comando dalle foglie che arriva alla base e dice dovete darmi da bere, dovete darmi da bere. Questo comando è un comando ormonale. C'è una porzione di rametto che è indifferenziata, sono tessuti meristematici che possono diventare quello che vogliono. Il comando ormonale che parte dalle foglie gli dice di diventare radice. Quindi cominceranno a mettere delle piccole radichette bianche. Se tutto questo avviene prima che la pianta secchi, avremo delle nuove piante, altrimenti non avremo niente e buttiamo via tutto. Ma conviene tentare andare avanti. Il trucco è quello di far sì che all'interno della nostra piccola serretta, di questo ambiente qua ci sia umidità. Quindi questo sottovaso pieno d'acqua sempre, tenerelo in una posizione luminosa ma non solo a 40 gradi diretto. Dopo ogni tanto la sera soprattutto scoperchiarlo perché potrebbero formarsi delle muffe, il mal bianco, le muffe grigie, quelle cose. Ma voglio dire, provare, fare e farne in grande numero. E poi regalarle piante agli amici che direi che è una delle cose più belle. Mi stacco, vado a prendere l'acqua che mi serve per innaffiare, per far vedere. In questo caso mettiamo l'acqua nel sottovaso e lui rimane così. L'acqua verrà assorbita da sotto. Innaffio anche quei due semini che non avevamo bagnato prima, questi con la rosetta perché sono delicatini. Ok, via, voilà. Finito.